Impressionante. Un giocatore da altri tempi, veramente. Chat, la tentiamo la giocata? Siete pronti per il video? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene, ripetete un po'? Sì, signor capitano! E let's go! Bello, Stone Vadin 3. Oh, oh! Ma la gente non doge questo velo, cioè... Aiuto! Aiuto! Vai, vai, buono, vinciamo, 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 vinciamo. Arriva Kaiser, arriva. Dai, poppa le potion. Oh, c'ho grab, c'ho grab, c'ho grab. È vinto. Aspetto di grabbare. Bro, io ti giuro, cioè... Vai AFK! Fai alta F4! Fai alta F4, veramente, vai AFK! Non gioca! Non gioca a sto game, vattene AFK! Ti voglio anche vedere sto game, non venire in me top, non venire. Vedete, sarà due annetti che non gioco Blizz. Ma che cazzo vuol dire? Non schiccio dritto! Merite, erano i primi due hook. Con calma, con calma. Comunque è stata più la pressione che ho tirato con quegli hook. Chi ha tirato la pressione? Al team tuo, alla Kaiser Bot, hai tirato la pressione. No. Alla Kaiser dice, porco ticcio, che cazzo devo lenare? Veramente, era più difficile missarlo che tarlo? Veramente, era più difficile missarlo che tarlo? È qui che è la bravura di Gabbissimo. Gli fa sempre le cose più difficili. Sul secondo potrei aver qualche colpa. Ah, potresti? Ah, potresti? Gabbè! 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 Cosa avessi preso il tornado? Fuck, dude! Fuck, dude! Mudo tutti. Eh, potevo... Potevo giocare anche meglio, eh. Potevo giocare meglio facendo lei e andando via. In realtà. Io adesso stiamo stavando in S2 però vorremmo essere caricati da te. Caricati da te. Allora, innanzitutto... Perdere... Ma prendere dalla sconfitta... E imparare le cose... Non è una vittoria, non è una sconfitta. Nella vita, ragazzi, o si vince o si impara. Questo è il mindset ideale. Congratulazioni di Sole e Castoro. Keep doing like that. Rompete gli air cool e vi dirò di più. Quando vincete, scrivete easy. Bastard. Piece of shit. Unhuman. Trash. No. Vabbè. Forse no. GGVP. You wanna coach? Suck this cock fucking... No, vabbè. Anche qua troppo volgare. GGVP. Go next. Vabbè. 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 Unhuman. è vero come in talo due volte oh ma che cazzo fai holy shit ma che timing era ma che timing era pensavo lo avessi detto quello in macchina porca troia che timing cazzo pensavo lo avessi detto questo in macchina ho detto ma questo c'ha la voce uguale alla mia ok ok oh oh ispira e ispira che giocatore che giocatore cazzo ragazzi umigliata umigliata ti killo l'ice ti killo ti killo l'ice ti killo ti vengono da ti killo anch'io merda umana che non sai altro che mica anche il lato due pezzo di merda figlio di puttana ti distruggo ti distruggo l'ice ti ammazzo ti ammazzo l'ice mamma da non me l'attacca ma basta il culo mamma 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 ma mi nonno ragazzi c'era alzheimer ok mi madre ha messo un tipo un filo sopra all'armadietto ok mi nonno so tre volte che lo prende mi apre la porta e mi dice che ce devo fa' lascialo la lascialo la che ce devi fa' Lascialo là Se cazzo ne so io che ce ne devo fare E' ap E' ap ragazzi E' ap va bene Abbiamo la zonia Zonia E qua ragazzi facciamo un po' diverso dal solito E desir per andare a massimizzare Dani che possiamo fare La zonia non l'ho usata apposta Po' di sfortuna Errore di calcolo Di percorso può capitare a tutti Resettiamo il mindset Aspetti cerchiamo di andare avanti C'è scritto veramente Allora l'hanno scritto Allora l'hanno scritto Mettigli mi si vuoi che tento la giocata Tenta la Ho tento 3 C'è la tua dice invisibile 1 No D'altra parte Il timing era corretto Solo che era dall'altra parte E' stato sfortunato 3 2 1 Ora Bravo 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 cane Bravo Bravo Di nuovo lei Di nuovo lei c'aveva app Ma com'è possibile No io sono tiltato Come un stagione Che hai fatto dai Quei che hai combinato Pure io Che cosa vera vuoi dire No no scomanda Meglio Brizzo o Paolo come giocatore Ragazzi ma Che intendete come giocatore Intendete in solo Q O in competitori Perché sono due video player diversi In solo Q Paolo è molto più forte di Brizzo Ma non lo dico io Lo dicono le statistiche Il fatto che Paolo abbia fatto sempre Challenger e Brizzo no Se mi dirai in competitor Dico Brizzo Perché è arrivato molto più lontano Anche lì lo dicono le statistiche Beh E il moco è lito matto Una scelta di vita Alla fine Cioè Poi uno può dire Ma io non voglio vivere una vita Dove devo andare per forza Discount per mangiare Non voglio succhiare i cazzi Boom 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 Chiamani da lì Pezzo di merda Ti distruggo Ti distruggo Ti distruggo Chiamani da lì Chiama Pezzo di merda Però lo supererà prima un po' Però se l'ha fatta la cazzata Villa Franca di Verona Ma questo sta a correre Che sta facendo Vabbè regà C'è credo C'è quello sta correndo in contromano In mezzo alla strada Con una torcia Porca troia Anche io da PC sento basso Questo è stranissimo FUUCK 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 FUK Gnutición FUK 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 IGUS No, non ho volto No, non ho volto Oh, io ne ru, io ne... Oh, oh, TP, TP, TP I'm on my way, I'm on my way I'm on my way Ok, grazie, grazie Oh, 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 nice, nice, oh Nice, oh Draco, Draco Oh, 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 oh Chi c'è? Twitch? Mi è piaciuto il gesto tecnico Mi è piaciuto il gesto tecnico Il vostro cano vi mando bacioni e ci vediamo Non so quando Ciao ragazzi